ciao a tutti e ben ritrovati nelle nostre trading room in questo video parleremo di semi conduttori o meglio delle aziende che sfruttano la materia prima appunto del semi metallo per andare a creare questi chip che possono poi essere utilizzati ovviamente in ambito tecnologico sia dai computer ai processore microprocessori ma possono ovviamente essere utili anche alle automobili quindi automobili nuova generazione e anche automobili elettriche che ormai vanno a prendersi sempre di più la una più grossa fetta del mercato prima di arrivare a tutti i dettagli vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di lasciarci un mi piace attivare anche la campanella per essere aggiornati sui nostri nuovi video ora la nostra sigla delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io come accennato poco fa in questo video andiamo a vedere 5 aziende che dal mio punto di vista possono essere interessanti per quanto riguarda questo business della creazione appunto di chip un po' più verso l'area ecco automobilistica e ne vado a parlare proprio perché anche qualche giorno fa leggevo tra vari siti appunto di una citazione anche di bank of america che accennava appunto a queste a queste società e a quel punto ho deciso di andare ad indagare un attimino sempre di più dove eventualmente possiamo focalizzare la nostra attenzione intanto vi ricordo che per chi volesse iniziare a praticare un pochettino con le azioni quindi con la tematica che tratto all'interno della nostra realtà potete utilizzare il link che trovate in descrizione vi rimanda la nostra sfida dei 1000 euro un'iniziativa totalmente gratuita che vi permetterà di unire la teoria alla pratica di tutti i giorni con quello che è la tematica lo strumento operativo che più vi piace. Arrivando invece un po' a queste aziende ecco di cui quest'oggi vi volevo parlare partirei da NXP Semiconductor è una società in questo caso olandese americana e molto concentrata negli ultimi tempi appunto su queste applicazioni su questi applicativi appunto per quanto riguarda le case automobilistiche ed è associato anche alla nascita del 5G quindi connettività anche all'interno dell'auto di fatti per chi di voi avesse appunto un'auto una delle più recenti chiaramente si sfrutta molto chiaramente questo questa connessione tra dispositivi Bluetooth, Wi-Fi insomma per avere anche all'interno della nostra auto tutto è necessario per comunicare in sicurezza chiaramente. Parliamo ovviamente un po' più di questa società lo facciamo dal punto di vista prima fondamentale come mi piace sempre partendo dal flusso di cassa cioè dalla valutazione di sopra o sotto quotazione di questo NXP tra quelli che vedremo è quello che dal mio punto di vista risulta essere il diciamo il più sottovalutato ecco tra appunto tutte le società che andrò a mostrare vedete anche qua dal piccolo grafico in sovrappressione parliamo qua di una sottovalutazione di prezzo di quasi il 22% quindi questo può essere buono per andare a trovare una società che potenzialmente nel futuro potrà andare a riprendersi dei livelli di prezzo un po' più alti dal punto di vista anche delle performance future qua siamo messi molto bene perché c'è una crescita degli utili prevista su base 1-3 anni di un 55 e 1% vedete anche dal grafico anche questa bella curva di crescita tra 2021 e 2022 quindi questa secondo me è una società che possiamo tenere sott'occhio vediamo anche il grado di indebitamento che dopo un periodo difficoltoso appunto nell'anno scorso nel 2020 attualmente il debito viene coperto da quelle che sono le entrate della società un debito in questo caso che per quanto riguarda la copertura è più coperto nel breve termine piuttosto che nel lungo quindi se vogliamo magari agire ed entrare su questo titolo preferibilmente lo dobbiamo fare in un periodo più ristretto pagamento dei dividendi non ci fornisce una cedola ecco magari così elevata come altre società altre aziende del mercato americano qua ci avviciniamo ad un 1% anno 1,082 per essere precisi vediamo nel grafico i grafici che vedremo quest'oggi sono molto simili tra le varie società perché come potete vedere hanno spinto molto dopo la discesa dal coronavirus in particolare in questo caso NXP vediamo anche proprio la sua crescita ma in linea di massima poi tutte le aziende più o meno hanno avuto questo explore alzista qua parliamo di quasi una 209% di crescita da più o meno un anno perché qua arriviamo e partiamo dal nostro calcolo da marzo del 2018 quindi un'azienda che comunque dal punto di vista tecnico e grafico come potete vedere è salita parecchio questo è sì sicuramente un pro per l'azienda ma per noi un pochettino un contro perché ovviamente non è conveniente soprattutto con un mercato così alto andare ad acquistare a questi prezzi appunto questi titoli però la mia idea è quella di darvi questa watch list lasciarla appunto in cantina ma riutilizzarla quando eventualmente ci saranno occasioni migliori per un'eventuale entrata passiamo al secondo titolo qua parliamo di ON Semiconductors qui andiamo a vedere sempre dal punto di vista fondamentale la società che attualmente è leggermente sopravvalutata neanche dell'1% una crescita futura del 38 5% a livello di utili su base 1-3 anni una salute attualmente ni diciamo perché vedete che questo debito sembra che possa essere alla fine qua andato aggiornato alla fine del 2000 dicembre sembra andarsi pian piano ad essere coperto appunto dalle entrate generate dell'azienda e per quanto riguarda i dividendi non abbiamo stacchi cedola quindi anche qua senza dilungarci molto vedete che qua una ottima crescita del titolo qua forse un prezzo sì più conveniente tra le altre società che vedremo quest'oggi però ora come ora io l'andrei in questo momento a scartare perché non mi dà una sicurezza e solidità ma soprattutto non mi paga neanche un dividendo che dal mio punto di vista può essere sempre un introito in più un'entrata in più per incrementare i nostri rendimenti parliamo poi di analog devices un altro titolo sempre del mercato americano in questo caso come on semiconductors qua parliamo appunto di una società molto capitalizzata qua parliamo di 57 miliardi di dollari una società che ho guardato anche negli scorsi trading club perché in parecchie volte ecco sfruttato questo titolo all'interno del nostro conto e come potete vedere fornisce questi prodotti per l'alimentazione del mercato automobilistico quindi con la comunicazione con il processo industriale ovviamente offrendo delle tecnologie di semiconduttori di fascia alta qua è una secondo me delle società più grosse che vedremo quest'oggi qua leggermente sopra quotata vedete come prezzo 154 contro un prezzo più normale definito del flusso di cassa di 149 dollari una salute finanziaria attualmente davvero molto interessante perché il debito è ben coperto anche qua sempre un più sul breve piuttosto che sul lungo termine però qua abbiamo a favore un bel dividendo 1,79% 1,80% anno quindi potrebbe essere interessante osservarla anche dal punto di vista tecnico ecco qua vedete anche qui la crescita del titolo lo rapportiamo il primo a NXP che abbiamo visto sempre intorno a marzo perché anche qua come potete vedere abbiamo avuto una salita di circa il 105% quindi minore rispetto ad NXP e questo secondo me potrebbe già essere interessante c'è stato uno storm negli ultimi giorni come chiaramente è successo in quasi tutti i titoli tecnologici e automobilistici soprattutto lato elettrico per quanto riguarda il mercato americano questo secondo me è un titolo ancora di più da monitorare rispetto ad NXP passiamo poi a Texas Instrument un altro titolo sempre americano anche qua abbiamo una capitalizzazione molto elevata più alta di analog devices qua su Texas parliamo di 160 miliardi di dollari di capitalizzazione una bella torta che ci troviamo su Simple Wall Street però attualmente un titolo di oltre il 46% sopra quotato rispetto a un suo prezzo di normalità le performance future si riducono rispetto alle crescite sia di NXP e di analog devices sicuramente una salute finanziaria migliore sia sul breve che sul lungo termine e anche un dividendo qua maggiore è un bel titolo ovviamente Texas Instrument qua però dal punto di vista grafico vedete che ha retto molto bene anche lo storno dei mercati ora come ora non è molto conveniente dal mio punto di vista andare ad acquistare appunto questo titolo l'ultimo NVIDIA che sicuramente conoscete un po' tutti anche qua società altamente capitalizzata vedete che sono andato in ordine partendo da analog qua abbiamo invece una capitalizzazione di 332 miliardi di dollari questo è sicuramente un titolo una società molto molto interessante perché ormai sviluppa da tantissimo tempo questi microprocessori oltre che per le automobili soprattutto per quanto riguarda la parte computerizzata c'è una altissima sopra quotazione, sopravvalutazione del prezzo delle crescite, delle performance interessanti del 13,7% su 1-3 anni abbiamo un debito ampiamente coperto sia sul breve che sul lungo e un pagamento del dividendo ridotto allo 0,12% quindi un titolo che è salito molto è stornato negli ultimi giorni però anche se lo storno è il più interessante dal punto di vista tecnico di tutti i titoli che abbiamo visto finora lo guardiamo anche con la media 200 a 200 periodi che vedete tende a tenere appunto questo a sovraperformare il livello medio appunto dei 200 periodi però non è a buon mercato appunto con il prezzo battuto dal titolo quindi a mio parere se dovessi chiudere un po' questo discorso di aziende produttrici di questi microchip andrei un po' di più a mettere in watch list analog devices e NXP semiconductor qua siamo su qualcosa di un po' più secondo me speculativo qua invece su qualcosa di un po' più tranquillo quindi questo è un po' il mercato che attualmente ci circonda per quanto riguarda la tematica appunto dei semiconduttori vi ricordo che andremo a parlarne un po' di più in dettaglio ovviamente con delle proposte anche effettuate sul nostro conto reale all'interno del nostro trading club vi lasciamo ovviamente il link in descrizione per saperne di più e per conoscere meglio appunto questo nostro fantastico progetto io come sempre vi ringrazio tantissimo per l'attenzione mi raccomando fatemi sapere anche voi con un piccolo commentino qua sotto in youtube insomma di cosa ne pensate di questo business di queste società di cui abbiamo discusso insieme quest'oggi e ovviamente vi aspetto al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti